fatela uscire fatela uscire basta non se ne può più mamma mia fatela uscire aperte che adesso entra con l'altra non è possibile che questo ha tutto questo dominio ma tutti questi fan ma voi ce la fate ma che cos'è che vedete di bello in una donna così mi fate capire cosa vedete perché io non riesco a capire veramente ce la fate che cosa è egocentrica presuntuosa che cos'è che vedete di bello parla solo lei cioè è pazzesco bravo hai fatto bene massimiliano bravo 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 mamma mia no 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 mamma mia grazie a tutti